Procuratore Gratteri, un modo per ricostruire questo libro, la storia dell'Andrangheta, partendo dalle sue origini e le moni? Questo libro ripercorre attraverso un filo rosso la storia italiana. In questo libro raccontiamo, dopo aver fatto una lunga ricerca nell'archivio di Stato di Reggio Calabria e di Cadanzaro, la storia d'Italia e di come dei ladri di polli nell'Ottocento sono diventati oggi classe dirigente. L'Andrangheta che non è mai stata fatta da uomini d'onore si è, tra virgolette, evoluta nel tempo, in che modo? L'Andrangheta non è un corpo estraneo della società, l'Andrangheta si è evoluta e cambiata man mano che è cambiata la società, quindi niente di nuovo sotto il sole, ma con quel passaggio, con l'avanzare della società avanza anche l'Andrangheta. Andrangheta, massoneria e politica? Molte volte le tre figure coincidono nella stessa persona. Quale contributo possono dare ai collaboratori di giustizia anche su questo territorio per provare a sgombrare il campo? È un contributo importante, ma da solo non bastano, perché noi dobbiamo avere la pazienza e l'intelligenza di fare indagini, di fare investigazioni e quindi considerare un elemento per costituire la prova, ma la prova non è fatta solo dai collaboratori di giustizia. E lo Stato con quali forze risponde? Con quelli che vedete, noi speriamo che in futuro siano maggiori, perché ne abbiamo tanto bisogno, visto che il fenomeno è molto più grave di quello che appare. Dall'azione dei magistrati di un territorio ad alta densità criminale come il Vibonese, cosa si deve aspettare anche alla luce delle dichiarazioni dei recenti collaboratori di giustizia? Ma non lo so, io non faccio previsioni, non parlo mai di indagini e non parlo mai del futuro. Io parlo della storia.